esatto ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Gaetano di Gaetano il suo canale De Rosa e benvenuti in un nuovo gameplay di pixel gunner allora ragazzi oggi volevo andare a giocare in una mappa un po diversa dalle altre ovvero oggi volevo giocare nella harbor defense ma ragazzi prima di andare a giocare nella mappa di oggi volevo farvi vedere il menu delle armi che negli ultimi gameplay non vi ho fatto vedere allora queste sono le armi che abbiamo noi abbiamo la pistola la minigun e la roi che anzi la ro 1 che secondo me è una delle armi più forti del gioco poi qua ragazzi ci sono le armi che si possono craftare con i blocchi ad esempio c'è questa 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 poi c'è questa ma vabbè ma senza perderci in chiacchiere andiamo a giocare nella mappa di oggi ovvero harbor defense allora ragazzi voglio dirvi che questa mappa anche un po difficilotta perché a parte che lo spazio è un po piccolino ma anche perché in questa mappa ci sono dei mostri diversi porca miseria porca miseria oh e in effetti ragazzi qui in questa mappa ci stanno dei tipo mostri mezzi militari porca e vabbè beh a meno adesso avete capito il livello di difficoltà di questa mappa ma vabbè oh mio dio oh 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 mio dio ragazzi qui rischio di cadere di nuovo aia e mamma mia ragazzi più andiamo avanti allora ragazzi più andiamo avanti nel gioco e più ci sono mappe difficili capite ragazzi quindi ci sono più abbiamo più andiamo avanti più andiamo avanti e più il livello di difficoltà delle mappe aumenta capite beh ragazzi qui penso che l'unico modo è quello di salire sopra i detti delle case perché così non ci riusciranno a prendere dai muori vabbè mio dio raga eccoli di che arrivano eccoli che arrivano ma ma raga dove stanno andando ma non sanno neanche dove sto io c'è e in effetti ragazzi questo praticamente perché i mostri quando tu ti metti da una parte poi ragazzi i mostri praticamente non sanno dove ti devono prendere questo è il problema comunque raga comunque raga da qui si vede un bel panorama vabbè qui mi tocca scendere perché altrimenti non la finiamo più muori muori bastardo e dove sono finiti i soldi non li vedo ah non sono caduto in mare vaffanculo madopla mia madopla mia madopla mia vabbè e vaffanculo le pubblicità però ah vabbè comunque ragazzi il gameplay di oggi finisce qui mi raccomando iscrivetevi a Gaetano il suo canale DeRosa e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video e mi raccomando seguitemi anche su TikTok che è anche quello importante e vi prego seguite pure Mario Gamer 68 sia su YouTube e sia su TikTok noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo gameplay di Pixel Gunner ciao